ciao ragazzi marcellino qui allora oggi ho bisogno di voi ho bisogno di voi io e il mio bodyguard ho bisogno di voi perché perché c'è qualcosa che non funziona non so che cosa prima di tutto voglio dire io non sono un youtuber professionale perciò capisco che non ho quelle grandi visualizzazioni come hanno tanti anche se con video quasi insignificanti oppure con shorts che sinceramente l'avrete visti anche voi non valgono le visualizzazioni che hanno siamo così cioè io sono una persona normalissima che metto dei video faccio degli shorts lo faccio a motivo mio personale non per guadagni e cose del genere sinceramente non mi interessa più di tanto però ogni persona vuole un pochino le sue soddisfazioni video shorts se qualche video che ho fatto lo hanno guardato alcune persone altri non sono partiti quasi per niente ma il problema qual è il problema sono gli shorts gli shorts quasi tutti partono oppure fanno una certa visualizzazione ultimamente mi è successo che ho messo 10 11 shorts se più che altro di immersioni poi ho provato a cambiare perché ho visto che non partivano però sempre un po nel mio settore perché il mio canale si chiama viaggia con me ma viaggiamo in tutti i sensi nel senso io vivo qui in egitto faccio vedere alcune cose dell'egitto faccio immersioni cose di cucina perché viaggiare viaggiare nel senso completo come viaggiare nel mondo della cucina viaggiare nel mondo della musica viaggiare nel mondo dei viaggi appunto come qui in egitto però ritornando a prima ho messo degli shorts e non ne è partito uno ma non le ho visti neanche presentati magari quando apri youtube e vedi quelle presentazioni degli shorts mentre prima alcuni venivano e quello che mi chiedo non so dei consigli magari pratici ripeto io sono un po analfabeta in questo settore anche se il mio canale era aperto oppure avevo questo canale già da tre o quattro anni però l'ho rimesso in funzione in questi ultimi quattro cinque mesi appunto essendo qui in egitto e per far vedere alcune cose a tutti cose simpatiche cose scherzose però mi accorgo che c'è qualcosa che non va sicuramente ripeto sbaglio io perché non sono un professionista non ho quella folla enorme che mi segue solo 600 iscritti che per me è una bella soddisfazione riuscisse ad arrivare a mille ancora meglio però quello che rimango ecco un pochino deluso è che vedo tanti shorts antivideo che sinceramente non ne vale la pena che fanno delle visualizzazioni astronomiche e poi magari non dico solo i miei però anche altri video che ho visto oppure shorts che ho visto veramente carini simpatici che ti fanno sorridere oppure che vedi un qualcosa oppure che ricevi delle informazioni e hanno poche visualizzazioni nel mio caso sono rimasto diciamo un pochino deluso perché quasi tutti shorts che ho fatto che per me sono soddisfazioni ripeto arrivare a mille visualizzazioni è una bella cosa alcuni shorts ne hanno fatte anche molte di più però vedere che rimane a zero oppure due visualizzazioni tra cui forse una è la mia mi sembra un pochino assurdo allora ragazzi ditemi è una cosa normale oppure c'è qualcosa che non va se so che qualcuno magari potrà dire ah ma sai tu mescoli tante cose tra egitto sorridere cose del genere però ho visto anche tanti altri canali che hanno un minestrone come ce l'ho io e fanno buoni risultati ai fatemi sapere qualcosa magari nei commenti di guarda che sbagli questo oppure apertamente dite che quello che metto io non vale niente perciò non c'è visualizzazioni così magari provo a cambiare va bene vi ringrazio anticipamente per qualche consiglio spero che qualcuno me lo dia e spero che questo video qualcuno lo veda più che altri ciao un saluto nella marcellino e viaggia con me ciao